bella niccia raga vi spiego aspettate un attimo prima di gridare forza mtc intanto entriamo in detran na 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 quanto sacro brin cambiamo un po' cambiamo un po' inquadratura raga sempre la stessa inquadratura non piace quindi cambiamola un po' qui sono pure le pantofole di mia madre non mi sembra il momento ah comunque bella intanto lico mica che non c'è capito una ceppa niente bella raga già un messaggio raga già un messaggio bella ale no perchè ho messo con cecratore ci c'è dopo vabbè dopo lo leverò io non lo so non lo voglio sapere ah raga vi spiego cosa è successo non è messo allora ale che stai guardando fai uno v uno ale che stai guardando questa live non c'entra niente comunque lo che faremo lo faremo stai tranquillo tre messaggi la madonna che ha scritto ale ora no tommy ha scritto se fai uno v uno contro lui eh ale adesso un minuto un secondo solo perchè adesso devo spiegare una cosa dopo lo posso anche fare allora raga vi spiego avete presente che lia e doppia doppia erano andati in un altro team si chiama cavalier se l'hanno creato ed era un team competitivo diciamo appena iniziato tutto su instagram vi dico di andare a seguire anche me e nico e in pratica come potete vedere dal mio nome ci siamo uniti siamo uniti i provini resteranno aperti fino al 7 giugno oddio i provini sono aperti fino al 7 giugno se uno ti vuole venire può venire infatti qua è abbastanza che tu lo dici i provini sono aperti fino al 7 giugno e in realtà per adesso ci chiamiamo cavalier quindi raga gli mtc rimarranno sempre nel nostro cuore ce li ricorderemo per sempre adesso siamo dei cavalier sia io che Nicolò giusto per adesso nel team siamo i vecchi mtc diciamo ci abbiamo fatto una trascusione siamo io doppia doppia e Nicolò eccomi ora ci sono un ottimo che Nicolò e Elia eccomi in più abbiamo già due provini che dobbiamo ancora fare però già abbiamo la richiesta di due provini che faremo molto presto comunque quindi ragazzi forza cavalier se ve lo volevo dire già perché mi seguo su instagram infatti fatelo perché dirò tutto prima sempre dirò le cose prima su instagram anche su youtube perché per me è più facile fare su instagram anche su youtube ma a che livello sei? allora ancora l'ho io a 16 ah gigi vabbè farete ciò quindi ragazzi cavalier vi dico di andare a seguire non so perché non mi salta non abbia litigato con nessuno questa volta siamo tutti in questo bellissimo team cavalier diciamo competitivo cos'altro non so che ci eravamo stancati e martedì affronteremo vabbè il team di Alememe e i hg però purtroppo non potremmo reccare per motivi di privacy di un nostro membro del team quindi non potremmo reccare o chiude la porta però raga ovviamente vi faremo sapere com'è finita prima su instagram poi su youtube raga intanto siamo già 4 incredibile sei messaggi mo rego la chat aspettate no no non sei messaggi come si aspe aspe ok raga ma seriamente volete dai raga mi stanno trollando qui dicono che vogliono fare il provino Alememe e gli hg stanno dicendo che vogliono fare il provino ci trovo all'anno bro di sicuro di sicuro avete un team che più o meno è competitivo cioè è più competitivo del nostro non ancora abbiamo qualche provino da fare possiamo fare il provino no no non stanno scherzando ho detto eh sì dopo la scherza che mi hanno fatto io lo voglio fare Ale si lo voglio fare si certo quindi ragazzi per meno però poi sarà vero può farci anche che è vero cioè sono negli hg sono negli hg cosa Nico dimmi cosa scrivono perché adesso non posso guardarlo si io lo voglio fare Tommy ti prego chi è stata a scriverla Ale ma dai raga non pregare se prencate se prencate noi diciamo di sì però se prencate ma ovvio che se quindi ragazzi è facile Cavaliers sono vi spiego un po' il progetto è un progetto di un team che vuole essere innovativo nuovo abbiamo piano A piano B diciamo piano A sarebbe diciamo per quelli più esperti piano B una specie di accademia però non è un'accademia è diciamo una seconda fascia che però è un esperimento che non ha mai fatto nessun team in Italia fascia B perché non è un'accademia molto diverso le accademie sono quelle per i junior comunque quelle per i più scarsi invece raga da noi è una cosa diversa vogliamo provare a fare due squadre siamo per ora in 4 nel team vorremmo essere in totale più o meno 8 e quindi raga avete capito un progetto molto bello per questo l'ho accettato molto interessante anche molto strano ho fatto il provino non l'ho registrato un attimo mi si è spento il cellulare dai ma li leggo io il messaggio un minuto finisco questi livelli a chi? oh hai incominciato a funzionare che hanno scritto posso fare il provino ora? non è un prank posso fare il provino ora che l'ha scritto Ale Ale quindi se dovessi abbandonare il team di HG è perché non so che non stai prankando dai raga non prankate su queste cose seriamente chi vuole veramente fare il provino la scrivo qua sotto 4 spect grandi tutti che stanno ancora scrivendo tutti ora niente mi è arrivato il segnale di nuovo messaggio che sa livello 40 intanto ma è andato così tanto allora 18 dai anche fede continua raga in questo team già ve lo dico c'è Elia Perazzi doppia doppia io Nicolò e più abbiamo due provini da ancora fare diciamo che Nicolò ti prego ho abbandonato gli HG e fede anche dopo sotto ti prego e facciamoglielo io voglio dai è un prank non è un prank cioè si capisce se un prank avevano già finito allora si ma sito online se sito online vi faccio invita da Tomy cioè a tutti prego dai it's a prank il prank che mi avete fatto voi se non è un prank dai dai se no si siamo online Ale e io online no ti faccio invitar da Tomy tommi invita invita è l'invito è invita lì tu per me non è un prank per me è vero bro dai fra può darsi perché c'è lì non lo so e lì a te ci siete tutte e due maometto maometto io ti ragione io sono maometto guarda oh Tomy mano bassa le live mano bassa le live ma cacca le live perché manca di vedere oh Tomy ok ma cacca 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 ma sa che un prank è bro oh cacca fico che non è un prank bro giova a mia sorella dov'è ma si è unita anche Fede no Fede si è un'altra sorella che è una casa mia Fede e Manu non è un prank come un po' ma perché è online supporta non so perché la sorella allora io sono a mente ma non passo le live ma non passo le live no stiamo ridendo perchè c'è la mia voce nella live che fa vanno a battere live vanno a battere live Tommy cane posso fare il provino insieme a Kajimini? questo video è salvata che devi dire Tommy e pensaci tu perchè io non so che dirti bro è un evrene che come lo devo dire oh cane vabbè sono un prank va bene va bene secondo te un prank va bene ah se vanno subire il game da poter me la dobbia ti faccio vedere quanto non c'è lo voglio fare quando c'è una cosa l'ho fatta Lidia ho sentito un pane quindi voi dovreste abbandonare il vostro team che è il più competitivo che abbia mai visto per venire in un team appena formato raga siamo monte io eh siete sicuri sicuri? bro è un prank vabbè credo che devi che è un prank dopo ti faccia vedere in particolare quanto è un progetto beh che tema che si importa non è una novità allora allora ancora non mi riuscire a vedere in quella consiste il provino raga eh niente allora hanno detto 5 kg no io ne ho fatte 8 più 1 nocato noi ne abbiamo fatte 8 noi ne abbiamo fatte 2 biscotti quanto ne abbiamo fatte Tommy? io ho 8 e te e 5 dico devo farla solo? io ho 7 e tu ho 8 devo farla solo io? vuoi farla solo? sì ma mi, mi cos'hai? mi, mi cos'hai? con due montonelni dopo lo dico del di ali e di sicuro per lui va bene a ben se lo facciamo gli acane io con il provino nella stessa partita ma se viene prancato così e lì vi ammazzerà aspetta un attimo fate mi chiamare tommy cane un attimo mi spiego l'audio raga Tommy per me è un prank Tommy mi puzza di prank eh cosa amico mi puzza un po' di prank a me da mo' che puzza di prank no posso fare Tommy cannellino prank no prank io mi chiamo prank eh vabbè ecco 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 Tommy canne raga potete buttare ora se volete mi cambio già il nome visto che sono già dentro se volete ma una bassa il volume però però se si crede vuoi avere una robita permette la lobby ha compato non è non è prende quando partite quando è partito 3 anico quanto 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 ci scommettiamo che un prank amico scommettiamoci una colazione una colazione sempre anche te non era più un prank se passiamo non è un prank se no no faccio se passiamo passiamo e non è un prank se no no raga va bene ci ho fritto la colazione però per me va ben tutto anche abbandonate da quella 100 livelli d'etran allora tommy diamogli quattro 8 kg di squadra mi chiede fede si può fare il provino quando torna a casa vaga allora aspettatemi un minuto solo che vale a prendere la cena aspettato mi ha già il cancelletto ma non clicca il tappo il telefono dovete fare 8 film di squadra perché se qualcuno stilla oppure fa qualcosa che non deve 8 kg di squadra solo? 8 kg di squadra dai va metti di squadra dai eh metto a metto dove è andato è scomparso ma possiamo raga possiamo fare cosi dice eh in città la posizione sicura è diverse no vabbè tranquilli ma la stessa città ho cucito il trattore eh per me adesso lo chiamo è andata a prendere da mangiare per la cena ah beh è vero l'ha detto eh non ho ascoltato la volta in live eh si la legge io la sto guardando però cosa metti una screen tra yarding vuole mentire? ma tu birdie mettiamo una stessa mettiamo pipo mettiamo pipo pipo? vai allora si annabbi proprio si senterà vai pipo si è meglio a merda oh vieni vieni cazzo il garage ma non mi vuole capo si apre che è successo? niente niente noi siamo pipo e raga un attimo devo andare a prendere il garage al mio amico a fede e arrivo subito cion no ti ho scoperto non ho un prezzo si 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 Tomi se vengono loro tre madonna siamo in otto no in realtà in sette però vabbè no ditemi tutti i vostri partecipanti io a Nicolò alle mme alle mme scusa io Nicolò Elia Perazzo doppia doppia uno che sicuramente suono Tomi si niente aspetta mettiamo una tasca spiro ok quale eh sicurissima la paperella no non è un prank cagare Ale è il tuo caserio eh quale mettiamo la paperella ce l'hai Tommy quale la paperella ce l'hai Tommy? quale la paperella ce l'hai sciolto il team? boh eh perchè c'è un po' di schizzo ci fa un po' vedere eh si mi sono un po' incazzato con lui oh Tommy che schermi mettiamo? non lo so tu c'hai la renegade eh eh e perchè ce l'hai? Iris? si Iris vai dai mettiamo pronta no ma quando scommettiamo con prank? ma io non lo so Tommy buttati però lo devi fare per me non è un prank ma come fai? ma non è un prank se ogni pomeriggio alle 15 ci hai chiesto di far la sfida contro gli HG come è possibile che in 5 ore ci ha cambiato? poco ci siamo cioè da poco ci siamo guarda c'è un HG schiccio no vediamo su Instagram che avete scritto eh per è dopo l'ha eliminata la storia che storia? eh dove ha detto che non che ci siamo sciolti ma per R non era negli HG raga ma infatti è l'ha annunciato lui sulla sull'account degli HG perchè ce l'aveva ancora la password ma quindi hai lasciato gli MTC? eh sì abbiamo sciolto anche noi gli MTC ci siamo andati e ora eccomi ok vi ripeto le regole dovete fare ho pochi il disco ma sono è easy comunque se ne vanno ma in realtà io ne ho fatte 9 in realtà non ha senso vabbè ne ho fatto 9 voi ne ho fatto 9 ne ho fatto 9 ne ho fatto 9 però vabbè io non ho fatto 3 che cazzo io ne ho fatto 3 ne ho fatto 7 o 8 eh va 12 cani è possibile anche del Mk che sei? cosa è cane? dove sei? io sono a bordo Bambi vieni qua con me no Bambi non devi andare a bordo Bambi non devi andare a bordo tu devi morire ah è vero mi hai ragazzato questa e che si è giusto tu a me la devi comprare non mi facciamo a cazzo non darò mai la mia cazzo come vado cazzo ma non vuoi dirmelo prima adesso come faccio nel mezzo della partita apri un canzino e porto la vicina ora apri un palazzo il garage è quello nero con la nero ah tomate tipo con la nera eh ti fanno alla live se dici qualcosa se dici qualcosa è discorretto tipo oh bello lo spazio no 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 mi fa sempre 20 di ping e io 123 che è tanto scattura in cassa di servono usate no quindi io dover aspettare 30 secondi così se io tu aspetta 30 secondi capito no raga ma non posso biglare oddio cito di vita ah io c'è 120 di ping fissa anch'io ecco adesso si vede che stanno facendo il prank non riescono a passare ma hanno fatto un prank anche no raga quanto mi scatta regare rega no vabbè se non ci vuoi ti mando la foto se non ci credi di cosa che c'è 120 di ping no fra c'hanno già un 2 kill di squad ma qua c'entra è un prank si ma che te prank tu ziga al prank per cobbio per cobbio allora tu che guardi tommy giamenic ok io guardo 2 kill giamenic guarda ma io non riesco a dire fare cioè ho 120 di ping fissa comunque hanno chillati due intanto noi giochiamo con l'euro in europa serve comunque io c'ho 4 kill ho visto io 2 oh bello lo spasso si lo so avevo trovato anche un tac guarda c'ho diventata fammi vedere il server che c'ho dovete fare io c'ho auto raga io c'ho auto eh allora va bene e di sotto ci ho lasciato un tattico no ma c'è la colla durata dovete fare altre due kill insomma vabbè eh ma ti posso far vedere un trucco aspetta non mi bannate gli devo far vedere il trucco eh però dopo suggerire non lo posso notare guarda il trucco ok non lo faccio più no ma è impossibile 120 di ping fissa infatti io 100 no mi sta rimangendo sei fare con la roba della gox fight quello tipo cosa sei fare con la roba tipo che spacchi il muro e metti direttamente la piramide tipo si si mi viene del cazzo che c'ho certo se ne ha fatto un altro iti il mu iti il pavimento metti la piramide ecco lì dopo volete fare 2v2 vai vai e fa è dentro al provino cioè insieme al provino guai e gli running no al provino se fate 8 kill di scud si si ho capito però cioè se facciamo più 8 kill di scud più vittoria ideale però e perdiamo 8 kill 8 kill sono po' un voto sono pochissime infatti dovesse aumentare cioè noi le mettevamo tipo a 3 infatti va bene non so ma chi è si è appena perso e la cosa mi forco tu la sciolta una raga ma un'altra kill potete anche tutta la quindi ma ragazzi io non posso di fare quello il punto sento 20 di come cazzo faccio comunque ormai facciamo victory infatti no oh di mi da comunque ti ha sciolto si non riesco non posso guidare e lo so guarda c'è un botto di pizzeria e dopo ragazzi c'è un gioco no cazzo una retta cazzo ho zio cazzo mi sono messo il monologio non ce l'ho cazzo devi bere ragazzo e chiamo filo secondo lui è un prank e lui lo sa sicuro a fila casa di corpo infatti è casa di corpo non ci risponderà sicuro a se trovo cellulare anche la trovate lancio voglia di cercarlo ecco la ecco la ecco la ecco la ecco la veramente ma sempre anche se gli avvio dirà per tutta la vita perché infatti non è un prank cioè noi ci facciamo dare davvero però e mi ha conosciuto non è vero e bocca al minimo ancora non c'è gente qua mi è in ritardo l'ha arrivato infatti le live vanno in ritardo youtube io vi ce l'ho meglio quanto stream o tipo c'è c'ho 40 secondi di ritardo un minuto sì sì c'è al triplo dei miei iscritti ma adesso c'è di più cazzo dici quanti ce ne avrò 30 ho capito 300 io e se magari come ti chiami che ti vado a seguire mi cane il dite best le mie roffi da lì il resto che roffi itali che c'è la cane c'è quello lì scherzo mio fratello però vuole fan upton no no cerca a creerlo farlo 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 eh sì però che cazzo io scendo basta e questo fa come ecco la cala cala davanti ha mai scelto noccato perco giuro perco giuro perco giuro perco giuro perco giuro c'è la rena di due che lo faccio perco giuro desiguali questo qua c'è un po' di gage senza cazzo ma dove sta spacca l'albero tipo ti conglie sobro ma stai bravo ah ma aspettare non è meglio che c'è la mia no avete buttato la minica e secondo me basta che ne chi lascia 5 più 5 uguale 10 che scoperta va bene ok adesso che avete fatto questa sera vedete ci comprende anche dai veloce no 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 ormai la finiamo facciamo victory vi battiamo in box fight e poi vi diciamo che non è un prank esatto vada non posso giocare come faccio guarda quando ho invito da polarmi prendi l'elicoccero vabbè comunque siete passati è un prank non mi basta così forse nico ieri mani e fede hanno fatto una cosa se non ci vuoi noi andiamo via se vuoi cioè sì infatti oh come mi tommy ecco 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 tranquilli ecco ma chi è da pad di mani e solo meglio anche le due canela e io vediamo che anche la mano di tastiera però è infatti vedo ma non hanno fatto da un modo se tastiera il pad cioè se giochiamo sottostiere in giochi da pad cioè no dico da pc con più da nerfato il pad si come se giante da quanto l'argo ora perché di più di più ninja si lamentavano sì zio vieni zio vieni zio vieni foto su pesa 39 39 39 39 dai 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 anch'io no 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 dopo il tempo questa è una situazione complicatissima che cazzo dice facilisce c'è in mezzo alla montagna con il discorso loro infatti quando ci diranno comprendo ci fanno una risata insomma io consiglierei di usciare ci avete con una viola e thompson e non lo so forse sì anch'io con 120 di timbra da cazzo i vincere hanno depotenziato troppo il cioè se prendi uno col barretta non succede niente li togli solo c'è comunque siamo davanti tutti che non sanno giocare non ne volevo 39 ma 12 squad bravo un provino con 120 di ping si potrà ma infatti volevo dire ricotta 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 porco duro ma non c'è una campagna basi gang io lo seguo chi è che non seguo il body gang tre vittorio ricotta metiti da parte ragazzi oh ragazzi iniziale vento adesso che ci penso come quando guarda questo come vuoi guarda no raga l'evento alle 20 che ve lo dico alle 23 come come che cosa hai fatto tommy eh non lo so tommy che cosa hai fatto tommy raga ma c'è l'evento tra mezz'ora ve lo dico eh no no tommy ha mancato il pad lì c'è hello tommy hai mancato il pad vero? no io sono andato da quel tipo pensavo che pushavamo ehi stai pushando ma con quello che stai pushando te ok ma guarda come cazzo faccio con tutto sto ping adesso con la partita lì va la partita almeno non gli dai la kill vabbè che cazzo me ne frega cioè sei certo di ping ma adesso ci dobbiamo battere in box fight sono tornata alla lobby allora ma una domanda qualcuno sa che ora è l'evento? tra sei giorni no c'è la season tra sei giorni anche io sapevo tra sei giorni però no no l'evento è stato sette giorni non è oggi vedi l'evento timer raga ve lo dico ma il timer è per la prossima season no ah guardo fatemi dare le mie fonti make creative ah tommy ti posso chiamare ci devo bene e stacca anche le cuffie tommy non dico a te tommy si lo so stacca anche le cuffie raccomando ecco no nico le solite cose che non ce ne sono vere mi fai dare i copi che brutto cane mio si metti creativo si raga allora ora ci potete dire comprare questo video sono sono inseriti prodotti fini commerciali domi legge quello che t'ho scritto domi legge quello che ho scritto Nico ma che cosa dici io non copio le challenge dagli altri no ma non quello l'ultimo comunque figa quella challenge capito hai letto quale sarebbe ma Nico ma guarda che sono più forti no niente ho detto che siete troppo forti troppo forti è meglio per voi entrare nel vostro timo grazie vi voglio bene metti pronto ma a me si raga basta di prentarci tanto lo sappiamo non ci stanno prentando basta raga a Nicolò ce l'avete fatto cascare ma io non ci sono cascato va bene quando direte era un prentravo che non ci caschi perché non ci dovessi cascare perché non è un prent ok ma quando ipoteticamente direte che era un prank io non ci sono mai cascato mai perché se entriamo devo consultare questo cuore passato aspetta aspetta che so io filo dentro gli hg glielo chieda filo se vi siete rotti filo non è dentro di hg dentro la carne come l'entrata le decioni però io non lo avevo una casa di sito come si sono un post venite poi regal sarete nell'accademi no scherzo aveva bene spero al frasco terzando l'accademi neanche c'era cioè in realtà ci dovrebbe innanzitutto l'accademi non c'è però ci sono due squadre io continuo avere 120 di più non so che non la face vado regala facciamo la face team zone wars no venite qui dove sono io ha detto box fight 6 parla l'italin anzi nostra l'italin parla l'itali che c'era l'itali che c'è ricotta ricotta mamma è parla ricotta il caderno dalla fagnata poi abbiate dico dai mi si sta basando il pingo tutti un po' sento non è l'interno l'itali che ha trovato e bianco non è vero adesso come l'arte eravate ma ma c'è la miseria ho fatto 200 nel culo e combattere e ora provate battene atto quello di ieri era un prendo quello di altri però è vero eh sono i miei perché non avete fatto ma io che non lo sai da me minoccano sempre a me non mi notano direttamente domi ti voglio bene che mi rinforzi sempre le giornate grazie dai vabbè raga non mi prendo io non che anzi io ci crederò quando avrete già cambiato 9 quindi quando avete già sciopato ma non ci credo perché io non e io non scopo perché mica meno certo e vabbè ci dobbiamo chiamare se non è un prank se non mi state fia per i fondellini ma nicolai hai fatto 0 it e voglio ho fatto lì stai calmo avevo fatto 33 33 33 blu scusatevi un attimo ma a quanto arriviamo a 5 e abbiamo arrivato e sinceri e facciamoci stracciare 50 se non lo stanno con una volta c'è io non sto tryhardando ma comunque non sto giocando vabbè giocare con uno che vuole sempre ci creda che non vinco ma fatti in caso è un pittore cara pittore ok va bene è partito il 200 non è colpa mia fare attacca le macro dai e allora giusto ma io andiamo a fare forza in grado non è vero la bianca ne one non c'è cane con i guardi con i morti non ti fa peggonare gli avevo fatto 200 per la prima volta quindi tommy questa è una vittoria ragazzi ma cerco di impegnarmi cerco hanno già vinto 5 0 tommy sono passati da una vita non è vero ok adesso dite cito è un prank please o se non ci volete ci rendiamo capito ma fate un po tipo solo piccone 2 ragazzi sapevo che l'evento era stasera no e guarderà con 120 di ping è la silenzio siete più pro lo sappiamo la capetta da un attimo non mi non mi spavano tutte le armi ok su tenermi producento 201 tutti i 200 sti cuoio buoni a me anche l'hanno rimandato quando c'è a me hanno detto così ma secondo me stasera tra sei giorni e guarda ho letto anche le no ascoltati mi hanno detto ascoltatemi hanno detto ascoltate che come si dice come si chiama l'ho detto che l'evento sarà una settimana prima della stagione 3 ora facciamo quindi due conti fallite doveva essere ieri e però ieri non c'è stato quindi doveva essere oggi l'evento una settimana la settimana finiamo sto provino e poi giochiamo tutti i conti non vediamo di 200 quando sei un nuovo team che si chiama un cavaliers però sono simili a quelli che non è che soltanto simili siamo anche più forte io ho voluto bene già vi entra la cina mano anche se sai di coppia dove siete lo sapeva raggiungo la banda trollarci se vincete questa siete passati cento volte uno è uno scherzo basta togliere un attimo l'hanno pure detto non mi parate non mi parate non mi parate quando l'abbia detto scusa ho detto basta bancarci voi avete detto sei perché non è un prank e come faccio se faccio uno spazio non ci credo brossi te amo nicola sei il peggior player che ho mai visto dovevi vincere la prima Tommy guarda il telefono raga io ci sto guardando eh quindi mi chiedeva il telefono non vedo niente era il tablo per riavviare perché se no non stai giocando no no piccola piccola no voi dovete riavviare sennò io non gioco perché dove sei? mi sto guardando è tornata che è più meglio dove sei dove sei giovi vuoi vederla mia guarda guarda ho il teletrasporto sono qui le mcc per trasporto e la comprata non partita di vanno ma in parte allora facciamo torna al centro è un pre va bene va bene siete entrati tanto così ci dai raga non prendetevi il gioco di noi a parte che filo ha già anche se fosse vero vabbè mettiamo che vero fino a non c'è bisogno di fare il provino perché mi facciamo perché mi aiuta con i video allora bene invitiamo fede rai chiama che la piccola va la parata un attimo che cambia il nome cavalli tipo aspettate ma tipo c'è un nome si può mettere cavaliers trattino basso cane quindi prende trattino si sente comunque prende e le sostanze a parte ciao ragazzi io posso restare facciamo uno raga non facciamo ma ma tamil e vento si dimmi se c'è siano ma che nemmeno si vuoi fare uno di uno venga nella mappa via con me tamil c'è siano sfidare quel pro con la re con che si chiama e ombra giovi mi piace 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 mi anche se io sempre di più tra di la r2 il pompa viola solo io è nato solo io e giovi scuso io volevo entrare a trovare che non voleva che gli entrassi entravi comunque siamo competitivi e ancora dobbiamo prendere quale scusa posso prendere che non ha capito le spazio non mi vieni o antonio quella collegata di live e allora come si chiama la rai e vende doomsday? crazy mad? è impossibile. prego crazy mad? cosa crazy mad? primos? crazy mad? cosa crazy mad? non mi sperate non mi sperate non mi sperate nella mia live ha scritto qualcosa? si bello raga non c'è scritto l'avete mentito? raga non ha buttato ma anche se forse so che sei te nicolò col tuo account finto non sono ne io non c'ho un momento per occhi non è vero l'altra volta ti feggeri crazy mad? vuoi veramente controllare? giuro su giuro sulla tua famiglia nicolò rispondi giuro sulla tua famiglia è vero che credi sono io sono io sono io non ci credo raga non ci voglio credere e speriamo tutti perché secondo noi ci possiamo stare con... no scherzo raga sto scherzando perché ti c'è però non vi spero bruno c'è lei di parte domi e alem e mela detto non l'ho detto che io il fratello di nicolò lo so che nicolò nicolò che c'è un account finto che si mette lo so molto bene a me e me lo dimentico io sono devo andare di 1020 c'è sì o no perché sono io credo di no grazie a mano nico però te anche te credi di riuscire a portare il re dei treni ma è un grande cacchio al di allora si sa chi sono io che parlo scrivi chi sono e poi si sa più bella bianca voglio che questo crazy man scriva scriva mentre nicolò mi sta sparando aspetta che entrò che entra nico non pre incara a me nico posto di prendere a me basta nico che si scopre che si sta a nico ti fa mandami la foto dico del tuo account e adesso di come sei live con il tuo account a mandami così mandami la foto della chat così scopre se sei stato a te a scrivere mandami la foto della chat ma atto si chiama così tanto grazie med libero credi ma si chiama così è la cosa profilo c'è è una foto con lui con un sottoprofilo c'è è una foto con lui con un sottoprofilo c'è si è nicolò ma ha un account finto con la stessa identica foto l'ho visto l'altra volta non c'è la mente guarda più ti fa io farò se vuoi mentre mi ciao giovi mi devi mandare la foto della chat così so se si guarda a scrivere a me adesso tagliato mentre mi scrive nico non hai capito riscrivi nico basta nico io ti spello se continui a ascoltarmi ciao giovi ragazzi ragazzi è in live è in live che sarebbe la nostra live ragazzi cercatelo vi giuro ragazzi vi giuro fatemi vedere è andato in live lo apretti fatemi vedere e noi ci sentirei che lo vedremo ha detto che lo vedremo vabbè 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 ma non c'è 3 nico sai che se mi stai facendo uno scherzo ti giuro che ti cancello dalla mia vita ma non lo sto a scherzo nico giuro che non ti parlo mai più in tutta la mia vita nico te lo giuro ti do 3 secondi per dirmi son prank nico 1 nico 2 e nico 3 ok allora me lo dici o mi devo incavolare con te nico oh che c'è? mi sta allaggandonato no nico me lo dici o te l'ho detto no io guarda che mi sto giocando per te sto scrivendo ah nico ascolta ah perchè in live che si vede lo sta scrivendo non si vede lui che scrive a me nico se sempre anche dimmelo subito perchè se lo è non me lo dici subito ti levo dalla mia vita oh mio dio ah dimmelo dopo veramente come il fisico giuro quello che vuoi ok allora non è un prank ah perchè nasa live non si vede che scrive a me no no ti vede ti vede sei listato a te la giuro a te minuto a te minuto eh non lo so però prima tipo ma allora non lo sto facendo io il prank perchè ho scusato sto facendo meme allora non lo sto facendo io voglio essere live va indietreggia ma di quanto lo sto giocando io sto giocando lì e fuori io sto giocando sto giocando ma di quanto deve indietreggiare per me sto scrivendo per me sta scrivendo però nel mentre fa la live non lo so io non te lo sto facendo non sto affermando perché stavano nella live di crisi ma cosa ha scritto che si mette alessandro e me ne c'è non so dove c'è l'ho fatto grazie raga io dopo sto kill vado perché devo andare ce l'ho adesso dopo che kill l'ho dato perché l'hato mi ha rotto no a te è figo ombra giovani sa che è un hub ma giovanni quello che giocava nella juventus academy è proprio lei signor giovanni faceva il portiere giovanna sì a pistoli nella merda voglio stare a me signore alessandro ma me se mi fanno un pochino eva mannaggia puledra guardate la chat non so cosa sta succedendo e tutti chi avrà mai rinconci rincarna non so cosa sta succedendo Oh! Sto male con il mio! Ah! Calma! Mi sono riuscito! Oh! Ah! Ah! è un mafioso signor giovanni parola sostegno è un abbo guarda lo che ne abbo ci fa uscire 120 in testo no tu a me raga basta questi ultrassuoni veni in 50 con gli ultrassuoni basta 3 raga chi è che fai gli ultrassuoni raga ai mio vai raga parmile per favore che è un casino veni dai buono bello la mia cucchia freddo torri ti aprò non per cazzo da me lo faccio io poi che io sto giocando di te lo voglio a tutto ma inizio del cavolo faccio mettere copi rete no tommy ma tu già mi sono macchioso macchioso tavolo mi traslietta mi traslietta no tommy si è un baffardo dai anche io non ci sono affonato no brutta impame pillone di chillone e ce n'è più colonna erano i più spagliati assicurata scusa giusto perchè non lo so vabbè no non mi fa tutto no non vale così l'ho promessa a mio fratello giovane re dai ragazzi direi fuori di chiuderla live a questo punto no no ma che crazy mad ma non c'è crazy mad vabbè mi dovete trollare vabbè mi dovete trollare allora ragazzi sei tu allora di nella tua live di salutare dei game man sono io sono io chi è che sono io sono io sono io sono crazy mad ma come fai crazy mad e lui nico io te l'ho detta non c'è più noto non lo guarda te lo giuro l'evento e non lo guarda ma tu hai sempre scherzato eh vabbè ma non mi diceva che al più vado di paradox sempre ho capito ma non è un conto e non scherzo su una cosa importante un conto e non scherzo su un video ragazza a me era importante il paragon con quella roba più ci mi fanno un amico gioia ma ma prima quindi l'evento tra sei giorni tanto la cinza quindi tutto il mille vento non lo vedi con me no e li ho cacciato i tommi dal team ok e non si cazzo una persona d'arte non è che se io sono in ultima mio amico mi piaccia solo che lui ha visto che mi ha eliminato gioiavi che mi cacciano vengono nei combat ah allora che cacciate se è un migliore amico per uno scherzo gli fa così e rispiraci io tu gli spiace mi fai cosa 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 nelle gambe allora io tommi non se non te lo dicevo forse era meglio siamo in live francina vieni aspetto che qualcuno sto voluto sto voluto fare uno scherzo grande come scherzole è divertente lo dicono tutti non è divertente ma è schifo che la persona una persona una persona una persona più a ridere che abbia mai visto perché mi hai preso la pistola no per te non è divertente non è divertente fare un po' di scherzi con il mio sì ma io posso farlo io te non li puoi fare dico bene javis non lo so dico bene dai va bene si dice bene purtroppo sono obbligato dai dai a rimanermi rimangono i cavaliers ieri ma ma ho detto mi fatti mi occupare ho capito il fatto che abbiamo fatto l'evento vediamo insieme no va bene va bene solo perché sei più un hub bisogna registrare il giorno dell'evento ebbè certo io mi interesso solo che posso farlo e mi dobbiamo arrivare a 50 like e la madonna ho capito va a 500 eh si fammi annuncio che mi faccio capelli blu se arriviamo a 50 like ok se arrivi a 50 like che mi faccio veramente capelli blu è vero mi ricordo ce l'ho per colorarmi i capelli ragazzi questa media raggiunge 5 anzi se questa linea raggiunge i 50 like mi farei capelli di blu mi mandato la foto no per fare almeno per i verdi ma anche io da mi anche mi faccia i capelli blu scusatelo perché se no sono una minchia brutto come un disgraziato con tutto perché sono un gran tipo sì anche io beh dipende con rosso è costato mi ravi puoi amicini dai pistoli i giorni di provino comunque sappiamo che un don sappiamo che loro hanno fatto ci hanno detto che ne legge devo andare tra giorno mi avevano portato ma ce l'hanno detto che tutto un prank ce l'hanno detto l'avano passato a voi ascolta tommy chiudi le live dobbiamo parlare cosa anche privata no i miei scritti devo sapere tutto dai siamo i testi stavamo guarda qualcuno che non vorrei allora ma tu ti ricordi il fatto che abbiamo fatto se io cioè se si può fare solo in quattro sì grazie sì tu sì che sembra non c'è raga niente una roba che nicola dice volate perché io mangio tanto cioccolata cioccolato 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 io vado a piccone per anche se anche dio a mafioso è uno scherzo 19 kg tu 32 47 farà gara vuoi sapere madonna tommy e vabbè sono esclusiva ah glielo dico dopo degli atti con la roba della pizza nessuno poi mi avevamo detto che se ero un franco ti dovevo offrire una pizza e colazione e vloggiamo il giorno in cui me la offri vloggiamo il giorno in cui sto bene e te la offri perché dovete sapere che non c'è uno stillone io basta basta molti ammazzi mostro round e tra iardo adesso quando guarisco a tommy nella conto anche lì niente di grave nicolò si è spaccato la cosa non la mononucleosi niente di che ma niente di che nicolò grazie io mi sono dovuto per altre volte nell'arco di un anno che vuoi quattro e tre volte vai a uccidere il mio libro non vale otto che non vale due secondi fa cucina un gradino non ho sentito che io ti dovrei offrire una pizza e una una colazione una colazione una colazione una colazione una colazione io ti spacco la testa non capisco che mi chiede giovi dillo chi è tanto io sarò uno fermo immobile con giochino nello spawn in verità sta mirando e non so perché come è fatta ad entrare alla storia la rosso lì a ti stavo dicendo tommy e praticamente vieni qua brutto maledetto è praticamente la colazione consiste in un cornetto no 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 coca cola poi ci mettiamo in mezzo a colazione l'acqua allora no coca cola acqua fatale la merenda allora la merenda e crostata e crostata non va bene ci sto dai ci sto ci sto ci sto chiedervi tutto quando lo facciamo blocchiamo però attene però ti prego e chiudi la vogliamo però quando lo siamo bello c'è della scuola no tu sei solo uno sport brutto mi fai schifo brutta persona non state pescita meno profondi dico sul serio e mi sono visto cosa davanti sapete che adesso vi dico nicola paura di guardare l'ite vis a vis perché dice che ha paura che è vero e no perché lì ci sono molte scene molto ho diventato pro è nabone fanno fanno e li a legge la chat e si scrivono qualcosa dei napoli o porco allora tutti gli sterbo no ti sei ripreso tutta la vita mamma mamma ti dammo prima che il ninja di roma rtl il ninja di roma di stracchi la scherz che è il mio di roma è uno giochi su giocare insieme però non sconosciuto ma come si chiama aspetta come ti chiami di nome vero dimmelo bene dicero guarda che gioco con tutti se già che c'è paura ma io non posso proprio i miei genitori non vogliono mi fa la gara e faccio una gara se vuoi fare la gara il tuo nome vero il tuo nome vero ninja di roma ma io forse ho capito che il ninja di roma ma hai capito che il ninja di roma è il ninja di roma perché perché si dobbiamo avere certezza notte la devi avere bro per me non c'è problema e nicolò che ha paura io poi io non posso io con tutti ogni giochiamo ai eterato spegniamo nicolò io ci mi sono me li conosci a lui non lo conosci bro i miei scritti e come si riconosco tutti che mi stai zitto mi sentire a giardare una cosa a piccone no sarebbe troppo umiliante perché c'ho quattro di vita a piccone no avevo 24 i gorri a loro cosa ho descritto no gioca come ci gioca dimmi lì di fornite ti invia l'amicizia va bene però non è negli scritti lì appena verificato non si può verificare io fra poco devo mangiare adesso mai più no adesso dimmi il tuo id di etica bravo scoperto ci gioco io te esci nico aspebra guardo la chat niente non me la fa vedere allora bro dimmi il tuo id di fornite quanto ci godono non puoi immaginare proprio infatti dopo che ci trovo ti uccido con tutto il mio botto io voglio vedere se non lo conosciamo però io anche se non lo conosco sto se riuscite un'altra volta giovi ti giuro che cosa hai detto tu non l'ho ucciso vabbè perché in effetto è da fuori Tom per me si posso decidere almeno quello che devo fare io non ci resto basta vabbè vabbè fra chi di la live perché chi di la live perché stanno succedendo un po' di roba sgradevole cosa dimmi cosa vabbè braio spengo perché ok vabbè no perché se guardi la chat dimmi che c'è scritto no dimmi che c'è scritto ciao sono tuo padre 100 kill c'è scritto questo proprio non ho detto ma chi l'ha qui? uno che si chiama Riccardo Castellacci con l'esterno del Milano e mi ha scritto ciao sono tuo padre mi ha fatto tanto l'hai fatto non è che c'è chi ti è di Star World di Star World non è che c'è chi è chi ha detto il ninja di Roma buon niente vabbè è vero se devi andarci io non devo andare però vabbè raga io proprio la devo spegnere la vera perché veramente però ok non lo spegnilo no va bene la spegno che dormi spegno per favore ti do nil poterezza di no non spegnerò la dai per le tue tavola c'è il rischio di cosa che mi vengono a prendere a casa vabbè te lo dico dopo allora io vabbè tonico se tu la spegni forse io adesso gioco no devi andare stai tranquillo non devo andare puoi scegliere la live al miglior amico dai no ma cosa ti insegna che posso spegnere la live perché te ti fai mille parametri bro ha scritto ciao sono tuo padre sarà uno scherzo te che fingi che è stato di madre rompi no ma non ha detto niente non ho detto niente non ho detto niente io quanto tempo è che c'è live sono un'ora è un quarto è ora di segno ma perché cosa come è ora di segno per me no perché non è vero perché le live durano anche sei ore sono in live che c'è il gioco c'è che non gli hai risposto a sicurare ah giovi adesso mi sono informato su tutti le cose su internet e ho scoperto che 2020 in verta è stato spostato al 6 giugno l'hanno spostato? si hanno spostato il 6 dovrebbe essere il 6 giugno ok anche ora eh ma anche loro non la so precisa vabbè ma cazzo vabbè guardiamo ma cazzo lo diranno eh sì dato anche il timer lo dice no? dovrebbero mancare sei giorni quindi sì il 6 giugno dovrebbe essere sì scusa un attimo ok va bene capito ciao 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 dico si fa le kill si fa le kill si fa le kill ah nico da quanto che sono in live un'ora e un quarto non è vero se controllo io non ho un'ora e un quarto ti rivolgo dagli amici un'ora e un quarto un'ora e venti un'ora e un'ora e venti un'ora e venti guarda 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 io o mi fa il favore guarda io guarda un'ora e dici a sette minuti guarda che lo so che ci avete fregato non dica te vai a vedere oddio scusa mi è partito il colpo non c'è due di vita filo vuole venirne e visto quanto tempo era avere veri ragione non c'è che ci conviene ah no chi lo pensava un filo non sapeva che era un prank pensava pensava che era vero che ci voleva andare veramente e li voleva seguire ormai sarebbe ora di chiederlo ma io non la voglio chiedere perché un po' di live in più non fa mai male lì c'è un po' di paura di sto tipo 15 cosa ha scritto qualcos'altro sono tutte e mezza te la stai anche rischiando cosa ma sto rischiando vabbè tra dico tutto lo dico dopo no ma dici adesso te lo ripeto dimmela adesso se no o mi dici adesso o non mi dici proprio niente vabbè tra un minuto il G ma io spengo mi dici il G? ti hanno detto il G? criminal criminale criminal tutto piccolo trattino basso 75 se non ve lo sta prendendo malissimo poi lo ara allora gli invio la richiesta va bene quindi ciao Nico grazie ciao gioco dopo cena magari no io mi piace che faccio la rai fino a tarde e vabbè allora dopo torno vabbè ma devi andare ma devi andare eh devo andare a mangiare io ho preparato ok vabbè gioco dopo ciao eh vabbè tanto la po' vabbè ciao Nico se spengo la live Nico non è scena vabbò allora la venta mi ve la farò una dentro non allora raga però stasera stasera non posso giocare con nessuno perché sennò dopo Nicolò rompe magari domani sera faccio un video in cui gioco con gli iscritti perché ha abbandonato il gruppo? non lo chiamo ma perché ha abbandonato il gruppo? aspetta provoqui a Mare a mi a mi a 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 Grazie. Grazie. Grazie.